Dopo il periodo di pausa forzata, a causa dell'emergenza Covid-19, la fase 2 è cominciata anche per l'associazione Salviamo l'ospedale di Penne, che si batte ormai da anni per la salvaguardia del nosocomio San Massimo. Una ripartenza con il botto, quella dell'associazione presieduta da Nicola Spoltore, che tramite una lettera inviata ieri ai rappresentanti del governo regionale, ai sindaci dell'area Vestina e al direttore generale della Asle di Pescara, il dottor Antonio Caponetti, ha espressamente chiesto le dimissioni dell'assessore alla sanità regionale Nicoletta Veri. La forte richiesta è scattata, interrompendo così il dialogo tra le parti, si legge in un passaggio della lettera, dopo le promesse di Sattese, tra cui quelle in particolare di lavorare alla riqualificazione del San Massimo, quale ospedale di base con sede di pronto soccorso. Ma non solo, tale richiesta è giunta soprattutto a margine della mancata presa di posizione da parte dell'assessore sui continui scippi di attrezzature personale, anche di eccellenza, che finora resiste solo grazie al loro grande spirito di ambelegazione al lavoro. A gastroenterologia, come detto più volte, manca il personale e la dottoressa, assunta per sostituire il medico andato in pensione dopo pochi giorni è stata dirottata presso il Santo Spirito di Pescara, così come avvenuto già per l'esame in video con capsula endoscopica. La stessa situazione, continua il comitato, si sta creando nel reparto di ginecologia, laddove al personale medico viene rinnovato il contratto con destinazione Santo Spirito e non più penne. L'emergenza Covid-19, entrato di prepotenza all'interno del San Massimo trasformandolo in Covid Hospital, ha bloccato anche il reparto di ortopedia, vera eccellenza, basti pensare ai numeri da grande ospedale raggiunti ogni anno. La conferma di tutto, conclude l'associazione, è arrivata anche dopo l'incontro con il manager facente funzioni Antonio Caponetti, il quale ha affermato che per il San Massimo non ci sono soldi e anzi già è tanto che non è stato definitivamente chiuso, essendo un ramo secco. Per questo l'associazione, nel richiedere di essere informata e coinvolta sulle scelte future riguardanti l'ospedale, si dice pronta a tornare in piazza assieme ai cittadini vestini per manifestare ancora una volta a difesa del proprio ospedale, ricorrendo, se necessario, anche alla magistratura.